La nostra amicizia nasce come conoscenza, amici in comune ci presentano e poi scopriamo di avere una grande passione in comune che è l'Inter. Quindi iniziamo a parlare di Inter, a sentirci sempre di più durante le partite finché andiamo per la prima volta allo stadio insieme per un Inter-Lazio. Io mi sono trasferita tre anni e mezzo fa ormai negli Stati Uniti per lavoro e lì è cambiato tutto, non soltanto la mia vita di tutti i giorni ma anche poi il mio rapporto con Fedi e con l'Inter in generale al 99% a livello di orario perché una classica partita a San Siro per me diventava un'alzata alle 6 del mattino per seguirla, però insomma non è la stessa cosa, non è mai stata la stessa cosa ed è uno dei motivi per i quali tornare poi adesso qua è stata una cosa meravigliosa, una settimana dopo essere tornata, cioè atterrata a Valpensa io ero qua a guardare Inter-Cagliari. L'ultima di campionato quest'anno Lazio-Inter, quindi la partita mia è di Cecilia, attenzione alle stelle sia per la Champions sia per il fatto che poteva essere un grande regalo per Cecilia, per il suo ritorno insomma. Al gol di Vecino il mio primo pensiero è stato scrivo a Cilli se facciamo l'abbonamento insieme in Champions League e spero anche qualche trasferta. Ed è stato come tornare a casa due volte alla fine perché sono tornata a casa io ed è tornata a casa anche l'Inter metaforicamente parlando, si torna dove si deve stare, dove si sta bene, dove è giusto che si sia entrambe, qua. L'Inter per me è il mio papà. L'Inter per me è famiglia. Grazie.